Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Un nuovo videocorso che mi fa molto piacere presentarvi perché vedremo insieme quella che io considero l'unica vera alternativa open source a base di software libero a Google Documenti. Di che cosa parlo? Parlo di FramaPad. Sito di riferimento framapad.org. Nulla da installare. Basta un comune browser. Io consiglio, lo sapete, Google Chrome o Mozilla Firefox. E non serve neppure un account per generare in un attimo un bel documento collaborativo, cooperativo e che non esito a definire anche un documento in grado di invitare alla scrittura immersiva, cioè senza distrazioni. Naturalmente, come funziona FramaPad? Ora io, vedete, scorro con voi la home page del servizio. Noi abbiamo un pad cosiddetto pubblico che non è aperto, ecco, in questa accezione al mondo esterno, ma in realtà è un pad condivisibile con chi vogliamo noi mediante link che dura per un tot di tempo e poi cessato. Quell'intervallo di tempo non lascia traccia. Chiaramente abbiamo la possibilità, creandosi un account gratuito per noi, di generare pad privati, avendo anche quindi uno storico ed una protezione maggiore. Guardate, immaginiamo di creare, penso alle materie umanistiche, a lettere, un documento collaborativo su Leopardi. Guardate, io clicco nell'apposita riga, do un nome al pad, vediamo un pochettino, riflessioni su Leopardi. Dopodiché decido quanto debba durare una settimana, un mese, possiamo andare sino ad un anno. Bene, guardate, con un clic su Crea un pad, il nostro editor, così si chiama, il nostro foglio pronto per la scrittura collaborativa, è pronto. Con tanto di testo di esempio, che ora vedrete, noi andiamo a selezionare, eccoci qua, e andiamo poi a cancellare, in questo caso con il tasto gomma della tastiera, quello cioè sopra l'invio, il backspace. Cursore lampeggiante, ho un invito ad inserire il mio nome, ma anche, qualora lui non mi inviti, in realtà posso cliccare sull'icone con le sagome, dove c'è uno, cliccare e digitare, nel mio caso Andrea. Dopodiché vado, procedo con la mia scrittura immersiva, collaborativa, senza distrazioni. Il componimento di mio gradimento è l'infinito. Peraltro, componimento che a me, a me come Andrea Cartotto, davvero piace, ecco, mi piacciono le sue sfumature. Bene, io naturalmente qui vado a digitare, ho in alto una semplice e non distrattiva barra degli strumenti per la formattazione. La B, quindi il bolt, il grassetto, la I che è l'inclinato, il corsivo, la underline del sottolineato, il barrato, la S, la possibilità di creare elenchi e la possibilità di scegliere uno stile, normale o altro, ed il colore. Dopodiché ora vado a capo con il mio tasto invio. Vedete che ho anche in realtà le righe enumerate. Come condividere questo documento con un altro destinatario. Guardate la rapidità. Vado a cliccare sul pulsante condividi la classica V rovesciata e poi seleziono e copio con un clic tasto destro del mouse e un clic tasto sinistro questo URL. Simuliamo dunque di essere alunni. Sapete, lo tratto in molti miei videocorsi, che è sufficiente cliccare in alto a destra, in questo caso siamo su Chrome, sui tre pallini, scegliere poi la modalità nuova finestra di navigazione in incognito e qui, nella barra in alto degli indirizzi, clicchiamo con il tasto destro per poi cliccare con il tasto sinistro su Incolla e vai all'indirizzo. Così ho un passaggio ancora più rapido. Ecco, questo è il testo di Andrea, ma volendo in realtà ora nominare un nuovo utente, osservate, clicco su 2, è corretto, inserisci il tuo nome. Il verde sta per Andrea2, la vendetta, piuttosto che... naturalmente è il nome di un nostro alunno, dei nostri alunni. Bene, a questo punto io posiziono il cursore dove ritengo opportuno e vado avanti a scrivere. Io, invece, ho maggiormente gradito il testo di A. Silvia. Abbiamo la possibilità di gestire i nostri colori, abbiamo, qualora serva magari per la scrittura matematica, l'apice e il pedice, lo vediamo in alto. Con l'occhio sbarrato possiamo eliminare, ma vi consiglio di non farlo perché è molto utile, la indicazione colorata che contraddistingue gli utenti, così a colpo d'occhio abbiamo sempre un bel riferimento. Ecco, guardate la praticità veramente di utilizzo. Vado ancora a mostrarvi che osserviamo questi pulsanti con un clic meraviglioso, o all'istante su questa sorta di tachimetro, i paragrafi, le frasi, le parole, i caratteri, perché ricordatevi che, ad esempio, lo spazio conta come carattere, no? Per dirvi anche le piccole differenze. Questi pulsanti successivi a che cosa serviranno? Beh, il pulsante con le due frecce è quello che ci fa veramente comodo e che ci mostra come, con un clic, sia possibile prendere questo testo cooperativo, in questo caso online, stiamo lavorando in cloud, ed esportarlo in formato PDF così da cristallizzarlo, renderlo un lavoro finito. Oppure, ci permette di cliccare su ODF, formato standard, open document format, ed avere una copia fedele di questo documento da elaborare ancora, anche comodamente offline, rimanendo nell'ambito del software libero, naturalmente con LibreOffice Writer, oppure ancora, per avere una visione quanto più ampia possibile, anche con un comune editor di videoscrittura proprietario, quale possa essere Microsoft Word. Ecco, il bello del software libero è proprio questa sua etero-integrabilità, oltre alla qualità di quanto ci vada ad offrire. Inoltre ancora, vi mostro che abbiamo poi un indicatore, una sorta di cerchio ricurvo, no? Avete visto? Ebbene sì, cerchio ricurvo perché? Perché qui, come peraltro abbiamo la cronologia delle versioni in Google Documenti, nelle Google Apps, ci troviamo ad avere una sorta di macchina del tempo, che spostando questo cursore, ci permette, in qualsiasi momento, vedendo quali utenti abbiano lavorato, di tornare a quella data versione lì. Versione 33 salvata al 28 di aprile. Allora, io ora clicco ritorna al pad, lo avete visto, ritorna al pad, mi ha riportato alla versione originaria del pad. quel play che avete visto in realtà manderebbe in riproduzione, cioè direbbe al documento, ora che ho fotografato quel dato momento a cui io mi trovi a dover ritornare, ecco, ora riparti da lì. Macchina del tempo. Insomma, abbiamo veramente osservato che sì, un'alternativa la abbiamo, che sì, anche laddove non si abbia un account istituzionale, si può lavorare in sicurezza, in tranquillità, ad esempio per un compito pomeridiano, extracurricolare, per alcune attività, da far svolgere in sicurezza, anche ad alunni minori, facendolo riutilizzare però una web app da noi selezionata. Bene, a voi la prova pratica su strada, viva Framapad, ma anche e i vari altri progetti interni a Framasoft. Ancora un caro saluto dal vostro Andrea Cartotte, vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!